Bellocchi, via prima strada, siamo alle solite. Questa mattina una bisarca a pieno carico è arrivata fino all'inizio del divieto d'accesso ed è rimasta incastrata nella solita curva gomito in via quinta strada. Dopo il pullman, un altro bilico quest'estate, anche lei come gli altri è stata costretta a percorrere in contromano il pezzo di strada fino alla rotatoria davanti alla scuola Fabio Tombari. Qui siamo nell'esatto angolo dove svoltano i mezzi una volta che provengono dalla zona industriale di Bellocchi, vedete come in questo momento macchine, camion e furgoni non hanno nessun problema ma se i mezzi pesanti, i tir di grosse dimensioni non vedono il cartello di divieto all'inizio della strada si trovano in questo pull de sac e infatti vedete l'angolo della casa mostra chiari segni del passaggio di mezzi pesanti che rimangono incastrati in questa curva gomito. Gli abitanti del posto, compresi i proprietari dell'ormai vituperata casa, oscillano tra il rassegnato ed il preoccupato anche se ormai, come ci hanno riferito gli abitanti della strada, è una questione giornaliera e non ci si fa più nemmeno tanto caso. Ma non si sarà accorto che non doveva venire su? Io pensavo... Invece è andato su e... Sì, sì, dopo ha fatto la ruttatoia lassù. Quindi è andato dritto di qua, ha fatto il controsenso? È venuto su, sì, almeno è passato davanti a casa mia, qui nessuno si può andare. E qua non riusciva a girare? Eh, non è facile qui la strada. Succede spesso? Via Prima Strada inizia nella zona industriale di Bellocchi e dopo il sottovia della superstrada un cartello indica chiaramente il divieto d'accesso alla strada ai mezzi superiori ai cinque quintali, ma è troppo piccolo. Molti camionisti non sono del posto, vanno alla ricerca sicuramente della Flamilia, spesso ingannati dai navigatori satellitari che non sono aggiornati e poi alcuni di loro arrivano anche a sera tardi e complice il fatto che la strada all'inizio è bella larga, non immaginano certamente di infilarsi in un imbuto e così la storia si ripete. E dunque una segnaletica migliore, magari più evidente o di quelle anche a ponte per impedire fisicamente ai mezzi pesanti di inoltrarsi nella strada, migliorerebbe certamente la situazione.